Flash. Barbara D'Urso rinuncia all'Isola dei Famosi, al suo posto la condurrà Alessia Marcuzzi Barbarona ha preferito non mollare nel pomeriggio nella domenica, in questo modo il sito da Gospia lancia l'indiscrezione, secondo la quale l'Isola dei Famosi targata Mediaset verrà condotta dalla regina dei reality show, Alessia Marcuzzi. Alla base il presunto rifiuto di Barbara D'Urso, convinta di non voler abbandonare i suoi programmi storici. Domenica Live e pomeriggio 5 restano ben saldi al suo timone e pare non verranno stravolti da nuovi piani. La conduzione dell'Isola dei Famosi era ancora da definire e diversi erano stati i nomi tirati in ballo per la conduzione esclusiva, per la prima volta sulla rete principale del Biscione. In testa a tutte Barbara D'Urso, che rappresenta ovviamente una certezza per l'azienda di Pier Silvio Berlusconi. La data di partenza dovrebbe essere collocata nel palinsesto del mese di gennaio 2015, ma le notizie intorno al programma sono ancora molto incerte. La conduttrice di pomeriggio 5 e domenica Live sembrava ad un passo dal posto che fu un tempo di Simona Venture e poi di Nicola Savino, ma pare che il suo attaccamento al pubblico pomeridiano e della domenica sia stato più forte e abbia prevalso sul desiderio di reinventarsi televisivamente. Alessia Marcuzzi, reduce dal grande fratello, riuscirà a sostenere il carico di aspettative che alleggiano intorno ad un'edizione già di partenza molto chiacchierata. È pur vero che l'ex compagna di Facchinetti è nota per la sua caparbietà e per la determinazione con la quale persegue due i suoi obiettivi lavorativi, soprattutto nei momenti di maggiore criticità. Al momento da nessuno dei due fronti sono giunte conferme o smentite, bisognerà aspettare una comunicazione ufficiale di Canale 5 o che sui social si apra un punto di confronto con una delle due conduttrici. Chi se ne frega!